Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini questo nuovo video spiego come disabilitare così la notifica caps lock in un altro metodo perché in alto a destra nella scheda c'è anche un'altra guida se non dovesse funzionare con questa puoi sempre guardare l'altra guida di 2 minuti quindi andiamo direttamente sul nostro pannello esegui scrivi qua esegui qua vai a scrivere appwits.cpl scrivi proprio così appwits.cpl ti porterà così sui programmi e funzionalità e in questo caso vai anche a trovare il programma che si chiama hp system event utility questo qua ci clicchi sopra e lo disinstalli una volta disinstallato quello che ti resta da fare è chiudere la finestra e riavviare il sistema hai fatto se questo video ti è stato utilissimo su come disabilitare e rimuovere per sempre la notifica sull'hp iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao Grazie.